Parliamo di Pitagora, il più grande filosofo magico dell'antichità. Qualcuno, anche in riferimento al video precedente, si è chiesto perché stiamo parlando di filosofi ionici invece che di scuola di Mileto, perché, in fin dei conti, Talete e Anassimandro e Anassimene sono nati tutti a Mileto, che è il centro della filosofia in questo periodo. Inoltre, scuola di Mileto suona anche molto meglio di filosofi ionici. Filosofi ionici sembrano essere dei filosofi che hanno acquisito o perso degli elettroni, senza contare che sembra un attacco di mazinga. Filosofi ionici fuori! Ecco. In realtà ci sono due ottimi motivi per questa scelta. In primo luogo perché il canale è mio e faccio i video come pare a me. Se il prossimo lo voglio dedicare a Paperino da Paperopoli, affari miei. E in secondo luogo perché, parlando di filosofi ionici, possiamo parlare di tutti i filosofi che hanno a che fare con questa regione e quindi, tirandolo per i capelli, anche Pitagora. Pitagora, infatti, nasce a Samo, che è un'isola sulle coste dell'Ionia, ma presto si trasferisce in Magna Grecia, a Crotone. Sì, avete capito bene, c'è un complotto! La lobby guidata dal filosofo greco Soros vuole nascondere il fatto che il più grande filosofo greco era in realtà italiano! E quindi la filosofia greca in realtà è filosofia italiana! Ma a Crotone Pitagora fonda una sua scuola che, con poca originalità, chiama scuola pitagorica. Ma non dobbiamo intenderla in senso moderno, cioè una scuola come istituzione, con edifici, con dentro banchi, con dentro persone annoiate da una parte o dall'altra della cattedra. Piuttosto è una comunità. I pitagorici vivevano insieme, mangiamano insieme, studiamano insieme, seguendo gli insegnamenti del loro maestro. La loro giornata era scandita da regole e riti precisi. Ad esempio c'erano regole su cosa si potesse indossare e come, c'era una dieta vegetariana stretta, ma con esclusione delle fave. Pitagora odiava visceralmente le fave, non bisognava neanche entrare in contatto con le fave, sennò si voleva restare puri. Probabilmente un gruppo di fave l'avrà picchiato quando era bambino, chi lo sa. Ma poi c'erano tutta una serie di altri riti religiosi, di saluto all'alba, digiuni, purificazioni, rituali di vario tipo e genere. E anche Pitagora ci viene descritto da fonti successive come un super mago magico. Lui credeva nella metempsicosi, che non è una parolaccia, ma la trasmigrazione delle anime, la reincarnazione in salsa greca. E lui era convinto di ricordarsi le sue vite precedenti. In particolare era stato Napoleone. Ma oltre a questo era in grado di digiunare per mesi, era in grado di manifestarsi in due posti contemporaneamente, che è molto comodo per far lezione a più allievi. Poteva placare le tempeste, ammansire le bestie come San Francesco, sparava a raggi laser dagli occhi. Insomma, aveva tutta una serie di superpoteri di vario tipo. I più attenti di voi a questo punto si staranno chiedendo per che diavolo stiamo studiando Pitagora. Se le sue dottrine sono etico-religiose, che ci fa in un corso di filosofia? Il punto è che questi rituali di purificazione servivano a far sì che, una volta morti, l'anima la smettesse di reincarnarsi in un corpo che è pieno di malattie, dolori, sofferenze, morte e altre cose spiacevoli, e potesse invece vivere serena e libera lontana da questo mondo che è un carcere. Siamo da capo. Anche questa è una dottrina religiosa. Ma uno dei modi per purificare l'anima era proprio studiare il mondo in maniera disinteressata utilizzando argomentazioni razionali, cioè facendo filosofia. Quindi noi ora mettiamo da parte tutto l'aspetto religioso che sta a monte e ci concentriamo sulle dottrine propriamente filosofiche, che sono di interesse per il nostro corso. Quindi, qual è l'archè? E Pitagora risponde l'archè sono i numeri. Perché era un matematico, se fosse stato un calzolaio l'archè sarebbero state le scarpe. No, sono i numeri perché se noi ci guardiamo attorno vediamo un sacco di cose, elementi, aria, acqua, terra, fuoco, eccetera, tutti però legati da rapporti numerici. Ogni cosa è misurabile. Ogni cosa può essere considerata in base a delle proporzioni. Lunga la metà, larga il doppio, eccetera. E, voglio dire, lo stesso nostro corpo ha un'armonia legata a dei precisi rapporti numerici. Per dirne una, l'altezza è pari otto volte la testa, oppure pari all'ampiezza delle braccia distese. Ma, più in generale, tutta la physis mostra rigolarità, assi di simmetria, relazione con il rettangolo aureo, iscrivibilità in forme perfette come il quadrato o il cerchio. Ma anche altre realtà, come ad esempio la musica, il moto dei pianeti, le stagioni, almeno finché l'uomo non interviene inquinando l'atmosfera, mostrano una regolarità. Quindi, l'archè è il numero. E uno sarebbe tentato di archiviarla con una delle tante stranezze di questi primi filosofi. In realtà, però, la sua posizione non è molto diversa dalla nostra attuale. Voglio dire, prendiamo ad esempio i colori. I colori sembrano essere qualitativi, non riconducibili a un numero. Questi sono due azzurri. Uno è 2,73 volte più azzurro dell'altro? Come faccio a dirlo? Sembra assurdo. Eppure, in informatica, ogni colore viene fatto corrispondere a una stringa esadecimale, cioè numeri, che fa riferimento a rapporti tra red, green e blu, l'RGB. Ancora. Nei suoni che sentite, Pitagora sarebbe andato a cercare semplicemente rapporti legati alla cadenza, al tempo, alla velocità. Parlo più lentamente, poi magari parlo più velocemente. Noi, invece, siamo riusciti a ricondurre tutto questo sonoro a frequenze dell'onda sonora che sono numeri. Insomma, uno scienziato che guarda fuori dalla finestra vede numeri, vede cose misurabili, funzioni matematiche e, detto per inciso, la fisica quantistica sta uscendo di testa perché la materia subatomica non vuole saperne di rispondere a rapporti numerici precisi e secondo la matematica classica. Quindi, per Pitagora i Pippurrà sì e no. Da un lato è bello andare a cercare nel pensiero di questi filosofi delle corrispondenze rispetto al nostro pensiero moderno. Dall'altro lato non bisogna perdere di vista le specificità. Innanzitutto, per Pitagora, come per tutti i greci, i numeri sono solo quelli naturali, interi, escluso lo zero. E, peggio ancora, i numeri venivano intesi come entità matematico-geometriche. Il numero 3 non è l'astratto numero 3, l'insieme degli insiemi equinumerosi comprendenti tre elementi, ma il triangolo. Esattamente il triangolo, tre punti disposti proprio così nello spazio. Le conseguenze sono quindi filosofiche e razionali, ma non sono matematiche o scientifiche. Ad esempio, i numeri si dividono in pari e dispari, con l'eccezione dell'uno che è pari-impari, perché aggiunto ai pari li rende dispari, aggiunto ai dispari li rende pari. Ora, se il numero è diviso in pari o dispari, cioè è duale, e la realtà è basata sul numero, la realtà sarà duale. ecco perché il mondo è diviso in coppie di opposti, non solo pari e dispari, ma anche bene-male, luce-tenebra, destra-sinistra, quadrato-rettangolo, quiete-moto, linea retta-linea curva, maschio-femmina, realtà positive a cui si contrappongono realtà negative. Tralasciando il fatto che questo ci dice che i mancini scrivono con la mano sbagliata, la piantino subito e scrivono con la destra come si deve, e il fatto che gli uomini sono superiori alle donne, ci sono mia moglie e mia figlia che mi stanno aspettando di là con un randello per spiegarmi alcune cose, ma questa è la posizione pitagorica, bisogna chiedersi perché alcune siano negative e le altre positive, perché dispari è positivo e pari è negativo. E perché se io dispongo il 3 attorno all'1, partendo dall'1, ecco che ottengo un quadrato. Se io invece dispongo il numero 4 attorno al 2, ottengo un rettangolo e il quadrato è una figura molto più regolare, perfetta, rispetto al rettangolo. Lo stesso accade per il 5 disposto attorno al 3 o per il 6 disposto attorno al 4. E la stessa cosa succede con 7 o con l'8. E via discorrendo. Continuate voi. E uno dice che razza di risposta è? Voglio dire, si potevano disporre i punti in altra maniera e ottenere a ottenere altri risultati, come insegna il gioco unire i puntini della settimana eligmistica. Il fatto è che se il numero è l'archè, il numero dovrà suggerire delle relazioni, delle interpretazioni anche simboliche, una numerologia che va dal di là dell'aspetto freddamente matematico. Ad esempio, il 10 è il numero perfetto, quello su cui i pitagorici giuravano. Il motivo è semplice. Il 10, disposto come tetractys, il triangolo a lato 4, è una forma bella a vedersi, regolare, simmetrica, ha 4 come lato e guarda caso è la somma dei primi 4 numeri. 1 più 2 più 3 più 4 fa proprio 10. E il 10 contiene in sé i primi 4 numeri pari e i primi 4 numeri dispari. Insomma, potremmo fare a lungo analisi numerologiche o cabalistiche cercandone i numeri simboli che rimandino a realtà superiori, ma lo lasciamo a chi ha tempo da perdere. Piuttosto, usiamo questi ultimi minuti per trattare ancora un argomento che potrebbe essere interessante, cioè il fatto che i pitagorici si inventano una nuova disciplina filosofica. I pitagorici, studiando la natura, si rendono conto che c'è una parte di essa che è regolare e costante. Gli alberi sembrano un po' difficili da ricondurre rapporti numerici, sono pieni di foglie che fanno un po' quello che vogliono, ma se io alzo gli occhi al cielo in una notte stellata, vedrò un sacco di pianeti, astri, fenomeni celesti, UFO, che si comportano in maniera razionale e predecibile. Allora, i pitagorici si mettono a studiare in particolare questo cosmo, cioè questa parte ordinata, e creano la cosmologia. E, tra l'altro, nel farlo sviluppano delle teorie abbastanza moderne, piuttosto interessanti, purtroppo per i motivi sbagliati. Ad esempio, per loro, tutti i pianeti, compresa la Terra, sono sferici, ma perché la sfera è il solido più perfetto. Se il solido più perfetto avessero pensato fosse il cubo, tutti i pianeti sarebbero cubici. Ancora, per i pitagorici i pianeti del Sistema Solare sono dieci. Non perché abbiano degli ottimi telescopi e abbiano deciso di non declassare Plutone, ma perché dieci è il numero perfetto. Ancora, i pitagorici pensavano, in particolare con Aristarco da Samo, che il mondo fosse egliocentrico. Ben prima di Copernico arrivano a teorizzare che al centro del Sistema Solare ci fosse il Sole con tutti i pianeti che gli giravano attorno. Ma lo fanno perché divinizzano il Sole e quindi se il Sole è l'entità più importante deve stare al centro. Concludendo, molti elementi razionali e filosofici commisti ad altri che razionali non sono. E un caso emblematico lo si ha riguardo al problema proprio creato dal teorema di Pitagora relativo alla diagonale del quadrato di lato 1. Chiunque conosce almeno un po' il teorema di Pitagora sa che il risultato è radice 2. È un numero irrazionale, non esprimibile in frazione. Ma allora, se esistono numeri irrazionali, Pitagora aveva di fronte a sé solo due strade filosofiche. O cercare una teoria matematica che rendesse conto dei numeri irrazionali, buona fortuna, oppure rivedere la teoria secondo cui l'archè sono i numeri, visto che questo rapporto numerico non è sempre perfetto, organico, armonico. E invece Pitagora reagisce proibendo l'insegnamento di questa verità e alcuni dicono condannando a morte chi l'aveva scoperta, ma quindi negando, nascondendo la verità. E questo è assolutamente non filosofico. grazie. 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 Grazie.